ha spostato la sua attenzione sull'incontro non usiamo le crocchette, prima una vostra compagna mi diceva che lei usa lo suo cagnolino per fargli fare il seduto, lo sdraiato, usa il croccantino, noi non usiamo il croccantino usiamo il gioco, è la nostra scelta, riteniamo che il croccantino il gioco, il gioco, il gioco, il gioco, perché?